Bollywood ha scelto di nuovo la Basilicata ed è un trend che non si fermerà qui. La città di Potenza, il Lago del Pantano, la Sellata e Piana del Lago di Marsico Nuovo sono le location questa volta per un videoclip di un'etichetta discografica di Monbei con protagonisti due attori indiani già volti noti del cinema e della TV. Sì, sono Surghi. Sì, abbiamo fatto un'experiente. Abbiamo un'experiente. Abbiamo un'experiente, abbiamo un'experiente, in questa stessa città di Potenza. Abbiamo un'experiente, la bellezza è molto buona. È un'experiente per noi, però è un'experiente. è un'experiente prima di visitare l'ItMO, quindi sono molto felice di fare, dal campo di favore. Ci sono molto플i così. Abbiamo qualcosa di tout e' molto molto buona visione. And I think Italy is only going to look amazing in this music video. We both, Parth and I, we both love food so much. And I mean, of course we love food so much. So we're enjoying eating good food. And as well we're shooting in the weather which is 8 degree. Sometimes even lesser. And it's cold and we're drinking some rum to keep us warm. But all in all today is our second day of shooting the song. And we're having a great time. Today we're shooting at the railway station. It's an experience of a lifetime. I think we'll take so many memories back home. Absolutely. Although it's a struggle to shoot over here. But then totally whatever footage we've seen, the visuals, it's come out so well and so beautiful. That is totally worth it for us to come over here in Italy and explore this scenic beauty over here. Absolutely. Thank you. Okay. Allora, loro dicono che si, lui si chiama Parth, lei è Surbi, sono attori molto famosi in India. e non erano mai stati in Italia. Nessuno dei due sono contenti di essere qui. Pensano che sia una bellissima città e trovano anche il meteo bello. Dicono oggi meglio di ieri perché ieri sono stati alla sellata. Quindi hanno sofferto un bel freddo. Oggi meglio. Dicono che sono contenti anche perché loro sono i fan della pizza e dicono che la pizza è molto buona. La pizza è molto buona. A loro piace molto il cibo italiano, quindi si sono sbizzarriti, insomma, hanno mangiato tantissimo. Dicono che è una bellissima esperienza, che sarà l'esperienza della vita perché si porteranno a casa tanti bei ricordi. E hanno parlato anche bene delle persone che sono qui. Una produzione che conta 11 persone al lavoro per 5 giorni. Ciak dopo ciak per un successo già annunciato, ma anche occasione per perlustrare la zona in vista di prossimi progetti in cantiere. Ok, detto che si chiama Rana, che viene da Mumbai in India. e che lavora per una casa di produzione indiana che si chiama Choo Studios. E sono qui per girare un videoclip musicale per DRJ Records. E dice che trova la Basilicata una terra meravigliosa e che lui non c'era mai stato. E che questi due giorni che sono stati qui si sono trovati molto bene. In Italia ci sono tantissime locali, come Roma, Venezia e altre locali sono molto comuni. e tantissime locali di Bollywood e Bollywood hanno utilizzato questa Roma e altre locali. Quindi il mio line produttore Francesco, mi chiede a lui di vedere una bella locazione che è molto popolare e bellissima. e poi Francesco mi chiede a me chiedere in Potenza e mi guarda i video di questa bella città e mi guarda i video di questa bella città. Quindi mi chiede a Francesco, mi chiedere in Potenza e mi piace molto di questa locazione. La gente è molto supportata, mi chiede a tutti i supporti per la scuola. E mi piace questo posto, mi piace di venire in Potenza e mi piace di venire in Potenza. E mi piace di venire in Potenza e mi piace di venire in Potenza. Quindi è un posto molto bello, le persone sono molto supportate e molto cari. E mi piace di questa area. Dice che per loro l'Italia è una destinazione bellissima. Ci sono destinazioni come Roma o Venezia o altre, che però sono molto comuni. Quindi lui ha chiesto al suo line producer, che è Francesco Pace, di mostrargli una terra che fosse conosciuta ma di meno. E Francesco gli ha inviato le foto delle location in cui poi effettivamente lui ha girato il videoclip. E ha accettato anche perché anche altre produzioni bollywoodiane hanno preferito, hanno scelto la Basilicata. Ha detto anche che gli è piaciuta molta Potenza, che oltre gli ambienti anche le persone sono state molto amichevoli e che tornerebbe di nuovo volentieri a girare altro. Quindi noi stiamo facendo questo video con l'actor Parth e l'actrice Surbhi. sono molto popolari in india. Sono un'artista di television. Sono un'artista di television. Ci hanno fatto molti popolari TV seriali. e il nostro cantante è Tabin Ben. E' molto popolari in india. E' un'artista di ragazzi. E' molto popolari. E' molto popolari. E i nostri cast, Parth e Surbhi, sono anche molto popolari in youth. E' molto popolari. 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 Ok, dice che sì. Il videoclip ha un cast straordinario perché Parth e Surbhi, che sono l'attore e l'attrice, sono molto famosi in india perché hanno preso parte a parecchie serie televisive. Quindi hanno anche milioni di follower. E che anche il cantante è molto molto famoso. E' uno dei più giovani emergenti in india. E che fa musica pop e sono molto famosi. Quindi il cast è molto buono. E si aspettano che il video abbia buone visualizzazioni. Stiamo cercando un'altra locazione per un altro livello di record. Sto lavorando con molti livelli di india. Quindi adesso stiamo filmando due music video per il stesso livello di record. Ma adesso mi piace questa area. Quindi voglio vedere un po' più locali qui. Quindi posso tornare in india. E mi chiedo anche di altri livelli di music. Ci sono anche molti locali che possiamo esplorare. E possiamo filmare nei nostri music video. Ok. Ha detto che lui lavora per più etichette discografiche. Che per questa in particolare sta girando due videoclip. Che però vuole, siccome gli è piaciuta molto quest'area. Vuole girare di più, esplorare di più, vedere altre cose. Così da tornare in india e proporre alle altre etichette discografiche la Basilicata come meta per girare i loro videoclip. La storia è di una ragazza e un ragazza che venivano qui per la scuola. non è piaciuta di più, non è piaciuta di più, non è piaciuta di più. E quindi, non è piaciuta di più. E poi, non è piaciuta di più, non è piaciuta di più. E poi, non è piaciuta di più. Perché la buona ambientazione, le persone qui qui. Il team è molto supportato. Quindi, ci aspettiamo di più di 50 milioni di guardie. Quando abbiamo realizzato il video. Quindi, accettiamo che la gente lo amano, lo vediamo. E abbiamo un buon attenzione. su YouTube. Dice che la storia parla di due ragazzi che sono in vacanza che poi per tornare perdono il treno. Quindi passano del tempo insieme. E si innamorano l'uno dell'altro. e la gente del posto che è molto amichevole. Li aiuta, insomma, in questa storia d'amore. Che quando il video sarà rilasciato in India. Si aspettano sulle 50 milioni di visualizzazioni. E anche di più. Quando il videoclip sarà rilasciato in India? Sì. 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 Intorno al metà gennaio, crede il 15. La gente è molto calma qui. Abbiamo una buona esperienza. Abbiamo avuto molti posti. E' difficile fare in grado. Ma quando hai il supporto da persone locali. E' divertente quando hai il supporto da persone locali qui. Dice che ha avuto una buona accoglienza. Dice che la gente gli è piaciuta. A parte il posto, però. Dice che la gente è molto amichevole. Molto accogliente. E il lavoro è anche molto più facile quando le persone sono così amichevoli con loro. check That's it we just wanted to say, buongiorno. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.